E allora eccoci qua, voglio subito salutare il professor Walter Ricciardi, sono molto contenta che ci sia lui con noi questa mattina perché come sapete non solo è un virologo di fama, non solo è rappresentante italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma anche uno dei consiglieri più ascoltati del nostro governo e dunque poter in qualche modo fare assieme un po' il bilancio di questi numeri finalmente un po' più sereni direi tra virgolette 1648, meno della metà del giorno precedente sono i nuovi contagi. Professore è un buon segnale, possiamo attaccarci come abbiamo una gran voglia di fare a questo numero? No, è un ottimo segnale però come diceva giustamente lei non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia perché ci sono già state altre situazioni in giro per il mondo in cui abbassare la guardia ha significato far ripartire l'epidemia questo è un virus insidiosissimo, non ci si può accontentare di un abbassamento, lo dobbiamo ridurre ai minimi termini quindi dobbiamo abbassare la guardia tra virgolette soltanto quando i numeri saranno veramente sulle dita di una mano perché questa è una crescita esponenziale, tu ti puoi trovare con due casi all'inizio della settimana e con 2000 casi 15 giorni dopo per cui non possiamo essere soddisfatti di questo che naturalmente è un risultato importantissimo ed è frutto delle decisioni e del sacrificio duro che abbiamo fatto tutti quanti però dobbiamo continuare e nel frattempo... Cioè lei mi sta dicendo finalmente raccogliamo i frutti dei grandi sacrifici fatti ma per arrivare a quello che vogliamo noi, cioè al contagio zero, bisogna continuare ad andare avanti? Assolutamente, aprile è il mese del quale noi dovremo lavorare insieme Senta professore, il tema dei guariti, no? 1590, quasi il triplo del giorno precedente è un altro segnale che deve darci fiducia perché naturalmente c'è anche l'idea poi che abbiamo detto fin dall'inizio che tante persone possono passare dentro questo tunnel di questo virus ma possono uscirne poi dopo sane e riprendere a vivere è un elemento che deve farci riflettere questo numero? Siamo alla svolta? È un elemento positivo perché sostanzialmente significa, d'altra parte lo sapevamo, che questa è una sindrome, è una malattia che nella stragrande maggioranza dei casi decorre benignamente il problema è che quando però riguarda tantissime persone molte di queste persone purtroppo hanno delle complicanze e molte di queste persone vanno in terapia intensiva per cui dobbiamo ridurre assolutamente questi numeri con il contenimento in maniera tale che quelle poche, sempre meno persone che vanno in ospedale possano essere assistite al meglio Ecco, parliamo un secondo del tema terapia intensiva abbiamo sempre detto fin dall'inizio che l'obiettivo principale era limitare la pressione sulla terapia intensiva questo sta capitando, ci sono ancora alcuni pezzi d'Italia io purtroppo mi sono fatto dei collegamenti nei giorni scorsi con Bergamo, con Brescia che mi hanno veramente stravolto perché poi appunto in alcune zone del paese sappiamo quello che sta succedendo ma non lo viviamo davvero sulla pelle invece in quelle zone i problemi sono ancora spaventosamente difficili da affrontare Sì, sono ancora difficili però anche loro stanno vedendo una luce in fondo al tunnel nel senso che sicuramente c'è stato un decremento degli arrivi il che li consente naturalmente di lavorare meglio, di non lavorare sotto pressione naturalmente quelle zone caldissime sono ancora calde però questo trend è un trend sicuramente positivo anche per le zone più affollate